E' stata una partita molto sudata, abbiamo faticato molto perché le nostre avversarie erano molto aggressive, avevano più gioco, forse la squadra piuttosta che abbiamo incontrato quest'anno, però abbiamo tenuto duro fino alla fine e la lotteria dei calci di rigore si sa, vince chi ha più fortuna. Da capitano penso di dover sempre spronare le mie compagne, quindi battere il primo calcio di rigore e magari segnare può dare la carica giusta alle mie compagne per quelli che rimangono. Eh sì, finalmente meritato riposo, quest'anno è stata infinita, fino al 25 di giugno a giocare, insomma poi con questo caldo e il prossimo anno si vedrà come va, noi siamo prontissimi già da adesso a cominciare una nuova avventura. Campionato, Coppa Toscana, Coppa Italia Regionale, insomma ora rimane che festeggiare. Ringrazio innanzitutto tutte le ragazze, tutto lo staff, tutte le persone che hanno lavorato per la Florenzia quest'anno e voglio dedicare questo trofeo importantissimo a una persona che non c'è più, a Fabio Gresci, per aver dato tanto nel calcio in generale a livello toscano e non solo. Vi saluto e vi aspetto per il prossimo anno. Un'annata più che positiva per Florenzia che ha portato a casa il campionato, Coppa Regionale e quest'ultimo atto di 25 giugno con un caldo terrificante, la Coppa Italia Nazionale a livello regionale. Che dire, si ringrazio a tutte le ragazze per l'impegno che hanno dimostrato il profuso durante l'anno che è stato lungo e molto faticoso. Un altro anno si sarà in aste di partenza sempre con la solita grinta e agguerriti come quest'anno e poi tra un anno tireremo le conclusioni e vedremo dove saremo. Chi lo sa.